Da questo importante appuntamento Geo Oikos di Verona, l'Unione Veneto Bonifica ha voluto lanciare un messaggio importante, la manutenzione del territorio come prevenzione dei rischi idraulici. Quindi l'attività classica che i consorsi svolgono tutti i giorni posta al centro dell'attenzione per difendere, per tenere in sicurezza il nostro territorio veneto. Da qua abbiamo lanciato il patto con il territorio e quindi l'accordo che abbiamo sottoscritto con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani del Veneto, un accordo che deve sancire questa grande collaborazione tra i consorsi e le autonomie locali per andare a gestire quel reticolo idrografico che va oltre la nostra competenza, oltre a quell'importante rete idraulica che sono i 18.000 km di canali che tutti i giorni le nostre squadre di operai tengono in manutenzione. attraverso il contributo che i proprietari di immobili pagano tutti gli anni per importi importanti pari a 106 milioni di euro, unici enti oggi nel Veneto che portano risorse sulla manutenzione e sul territorio. L'accordo con l'ANCI ha dei principi fondamentali, quello di creare cultura attraverso il rispetto delle regole della manutenzione, l'invarianza idraulica nel cao delle costruzioni, i pareri idraulici per quando i piani di assaiio territoriale dei comuni programmano il progetto nel futuro di un territorio, perché se non teniamo conto di queste regole, gli scempi che oggi possiamo osservare anche nel nostro Veneto creeranno sempre dei disagi alle popolazioni che vi vivono in qualsiasi momento di eventi eccezionali atmosferici. Non possiamo più pensare che la gestione del territorio può essere imputata solamente ai grandi enti, ma ognuno deve accollarsi un po' di responsabilità, partendo anche dal cittadino, nel tenere in considerazione che il territorio parte e la difesa parte da casa sua, da sotto casa, dalla piccola scolina che ha magari nel ponticello davanti alla strada.